Ho atteso tutto il giorno. Vi sembra questo il modo appropriato di trattare i vostri ospiti? Eravamo troppo concentrati sulle questioni di guerra. E abbiamo trascurato il nostro ospite. Ti chiedo perdono. Ma ora dimmi, qual è la tua strategia per catturare il re? Quella di un pirata quale sei? Ti prego, illuminaci al riguardo. Sarò molto lieto di esaudire la tua richiesta. Se prendiamo il largo all'alba con la bassa marea e la corrente a favore, attraverso lo stretto di Myung Yang, possiamo riunirci alle nostre truppe di terra e poi dirigerci alla volta della capitale Anyang. Secondo i miei calcoli, ci vogliono un giorno o due. Più facili a dirsi che a farsi. Yi Sushinna non è un avversario debole. Navigare in mare aperta attorno allo stretto e approdare nella capitale per annientare Yi con tutto il suo esercito. Questa è la strategia vincente. Allora perché credete che Hideyoshi mi abbia inviato in vostro aiuto, Wakizaka? Come osi pronunciare il nome del nostro comandante? Aspettare il nome del nostro comandante?